Benvenuti a Pitti Uomo e oggi con noi abbiamo Benedetto e Fabrizio. Il Made in Italy va sempre premiato. Il nostro stile è il bel vestire, il buon vestire. Sviluppare messaggi di ecosostenibilità e quindi è bello questo evento che hanno fatto per promuovere, comunque, tutto ciò che è eco-friendly, diciamo. Voglio legare il green con anche l'estetica e le cose belle. I nostri outfit che abbiamo studiato per questo evento sono quattro outfit che ognuno rappresenta, diciamo, un modo di andare in bici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.